Sono arrivato che stava guardando il Mondo alla televisione, ha esultato per la vittoria sul Napoli 2 a 0, ha chiamato Galliani perché voleva fare i complimenti ai giocatori e ha detto a Galliani stasera ti guardo da Fazio che presenti il libro. Poi mi ha raccontato della visita del presidente Meloni, poi mi ha dato anche un po' di lavoro, quindi questo vi dice che sta bene e continua a lavorare. Grazie, arrivederci, buonasera. Molto contento, molto soddisfatto, molto affettuosa, è stata una sorpresa che ha molto credito. E' in corso.